Allora, Maori, cosa giochiamo stavolta? Possiamo fare qualche bot lane. Ah, bot, andiamo a bot, dai. Era per cambiare un po'. Sì, andiamo a bot. Mi consegnano un Ezreal support, possiamo farlo? Varus Ezreal, da un po' che non gioco il mio leggendario Ezreal, che ne dici? Mi piace. Ti piace? Andata. Non secondo te ci sta il Cliance al posto dell'Ignite, o l'Ignite è meglio? Ma è che l'Ignite mi sono reso conto che serve un cazzo su un Ezreal full AP. Sto pensando, potrei mettermi il Ghost, qualcosa di... Devo provare qualcosa di nuovo, Maori. È troppo mainstream l'Ignite, cazzo. Vediamo intanto chi hanno, vediamo chi hanno e pensiamo, magari tengo l'Ignite, non so, non una Soraka, una Soraka, la teniamo per forza quello. Ti metti che se siamo contro un Brand Support, allora mettiti Cliance. Un Exostato lo fai esplodere. Ormai si può fare un team di 5 Exost e vincere. Dai, che palle! Ma neanche il tempo di bannare. Chi è Morgana Jungle, questa? La leggendaria? È lei? Ezreal, eccolo qua! What the fuck? What the fuck? No, NP... NP main. NP main, you don't understand. Go, I'm ready. Ready, bitch. Andiamo a punzecchere un po'. Ed support in un meta, yes. Ci è andata benissimo, Maori. So perfettamente come si gioca a Shaco Support. Lo giocavo sempre anch'io. Lì dentro sta spammando... Lui probabilmente le spammate, non so se ce n'è anche una qua. No. È stupido. Sicuramente è pieno di box, dai. Là dentro è pieno di box ed è fisso. Senza problemi, proprio. Infatti lui sta sempre lì vicino, perché si aspetta che io ci entro nel bash. E lui così può ingaggiarmi di Q. Non so se ho sbleccato la Q, però... Occhio. Minchia, ho tutto sto casino per tirarmi quel pugnale. Vabbè, contento tu, Shaco. Tieni. Ecco. Fatto. Rispedito con 28 di mana. Aspetta, eh. Ci sei, Maori? Quando vuoi? Uh! Mamma! Occhio che adesso ma... Ok, mazzalo, mazzalo. Perché è attaccato il minion, mannaggia te? Maiale schifoso di un Maori. Donna, ma cos'è? Ma stai scherzando? Ma stai fottutamente scherzando? Ma come mi vuole? Vabbè, io resto... Ammazza sto figlio di puttana qua. Ma come cazzo gioca sto Shaco? What the fuck? Ma cosa pensai di fare più che altro? Cioè... Mamma mia! Dove sei Shaco? Shaco, sei proprio data a gamba, eh. Pesantemente proprio. Esplosa. Sì, sì. Buonissimo. Ok, ok. Là dentro, oltre ad essere i Kha'Zix, ci sono anche delle Shark Box. Cos'è che vuol fare il ragazzo? Ok. Buonissimo. Buonissimo. Tranquillo, mate. Tranquillo. Vai, c'hai l'Attack Speed. Vabbè, più facile così, ragazzi. Non si può, eh. Comunque. Con sto magnifico Ezreal. Grazie per il record, ancora. Ah sì? Già ci ringrazio. What? Via. Rick! Non serviva? O forse sì? No, non credo. Però va benissimo. Il livello 6 dei Vignites questi morti, penso. Di nuovo ero utili. Bravo, Maury. Controllo il range. Ok. Bravissimo. Era quello il range, era giusto? Ma perché il Jace di Maury, ragazzi, deve prendere il suo account, altrimenti, cioè. Shaco, 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 Shaco. Perché hai ultato la copia? Pensavo che prendesse quel range, anche l'altra. Donna, Maury, che scandalo che sei. Che scandalo. Ho pensato che ultanto quella... Non devi pensare, evidentemente ti fa il quanto male pensare. Eh sì. Ma Katelyn esiste ancora, ma è 0-4. Mi sono stupito di averla vista nella mappa, per quello. Oh, c'è Shaco, andiamo. Ah no, sto inizio. Difendo io. Oh, eccola, eccola, Katelyn. Adesso lo sciamo. Ma gli faccio vedere. Uè, Shaco. Oh, il flash sul posto! Ok. Ho miscliccato, quello ExoStar, ho tirato il flash, ma non importa. Ho workato lo stesso. Tanto sapevo come prenderlo. Non c'è Shaco che possa scappare al mio controllo. Maury, non dovevamo scalare, noi. Ah, a me sembra di... A me sembra... Ma non lo stiamo facendo. Evidentemente sto giocando così bene che non ci crede nemmeno lui. È probabile. Hello? Boom! Eh, l'avevo pingato, che era mia, mi dispiace. Non ho la ulti, mannaggia. Non posso fightarci senza ulti. Però se c'è Warwick... Ma WTF? Mario vuole salvarsi, dille qualcosa. Niente. Uh, peccato! Boom! 360 no scope, ragazzi. Davvero. Is that him? Ah, il virus di Mario è questo che volevamo vedere. Fotto. Uh, è lì vicino a te? Vabbè, ovvio. Prima ammazziamo la coppia, poi ammazziamo anche quell'altro. RIP. No, sto non avevo uno. Io sei 1-9. 619, ragazzi, era il misterio. Sì, Mauri, così. Boom, boom, boom. No. Eh? E quella dove è uscita? Puttana. No, che palle. Ma quanto l'ha tolto sto Vukong? Vabbè, full AD. Sì, in effetti. Ahimago, Nandos. Ok. È Nando, ragazzi. No FF? Ma che BM sta Morgana qua. Uh, protobelt. Ha finito un item, finalmente. Bravo, sciacco. Non hai cambiato, anche hai cambiato l'alimentatore. Sì, però non lo dico nel video dell'alimentatore perché non sapevo, non avevo, cioè non vedo neanche la marca dell'alimentatore. Da quanto facesse schifo. Adesso sì, adesso c'ho... HX850i della Corsair. Con l'assicurazione Platino. The God. Costa 200 euro quell'alimentatore. Ah, Platino non taglia, mondo. Eh, vedi. Eh, ma a differenza di questo gioco, il Platino è tanta roba. Sì, sì. Questo gioco qua, invece, il Platino è il buco del culo. Ma ho di stream, ma oggi no. Come ho fatto a non prendere? Ma sei serio? Via. Non dovrebbe... Tirarmi nulla. Niente, oh. Che poi mi fanno fare brutta figura, mentre in realtà fanno schifo giocare e tirano anche le cose a caso e riescono a fare le kill. Però mi fanno fare brutta figura. Non la sopporto, sta cosa. Enrico, mi vogliono morto, aiuto. È quello che ti merita, Mauri. Addio! T'hanno investito, cos'è successo? Andato a supportare sto poveraccio di Mauri, dai. Mettetegli un follow. Anche su YouTube magari, aspetta un attimo che... Tanto su YouTube fai schifo, non ti seguono manco se glielo dici. Inizia a portare video decente, frequenti e allora ha un contro. Infernal. Oh, l'infernal, buono, buono. Sti cazzi, loro non se lo fanno. Oh, ragazzo mio. Guarda che c'era qua dentro. Me lo aspettavo, sinceramente. Sono contro tale che era anche da, peggio per te. La prossima volta lo banni. Anziché bannare le solite cose mainstream tipo Yasuo. Che banda sfigati, Yasuo. Porco, dici, che banda sfigati che ha Yasuo. Madonna, ma quanto gli ho tolto quella W? Gli ho mandato lo Sterex con una skill. Win, come on. Ma perché mi sfotte così tanto a sta Morgana qua? Purtroppo, sto Shaco qua fa così schifo che è buono solo di fare questo. Tanto il support Alpha, ragazzi, l'abbiamo fatto sentire, quindi. Poco male. Dai, così posso dire di aver portato altri contenuti. Oltre alle solite cose. Good, easy. Bad game, scrive Caitlyn. Anche Shaco, attenzione. Shaco ci scrive bad game. Allora, Mauri, descriviti un po' a questa gente qua. Che tipo di player sei su League of Legends? Per un OTP, Jace, penso che possi bastare. Pronto? Eccolo! Salve, clap! Salve, Salumi? Sì, Salumi. Ti va di fare un po' di scalata, visto che Mauri vuole andare a giocare col main. Una scalata? Esatto. Salve, ti va dire...